Ciao a tutti amici di Dite la Vostra che io dico la mia, parliamo della festa della Repubblica. Il 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere con un referendum istituzionale tra Repubblica e Monarchia. Vinse come ben sapete la Repubblica che oggi siamo qua a celebrare, ma ho alcune considerazioni da fare su questo argomento. Innanzitutto il 2 giugno del 1946 fu la prima volta che le donne votarono in Italia. Sembra strano dirlo perché sono passati solo 78 anni, meno di 80 anni che le donne hanno diritto di voto, ma probabilmente questo loro voto influì sul risultato finale. La Repubblica vinse con circa 2 milioni di voti di scarto, più di 12 milioni contro più di 10 milioni per la Monarchia e appunto si cambiò regime istituzionale, si passò dalla Monarchia alla Repubblica. L'ultimo re d'Italia, Umberto, andò in esilio in Portogallo e gli eredi maschi della famiglia Savoia non sono potuti più rientrare in Italia fino al 2002, questo giusto per ricordarlo. Quali considerazioni fare sulla festa della Repubblica? La prima è quindi che le donne hanno avuto sicuramente un ruolo importante in questa scelta. La seconda è che siamo una Repubblica molto giovane. Neanche 80 anni di Repubblica, seppur per molti di noi è scontato vivere in una Repubblica, sono pochi. La nostra è una Repubblica giovane che ha bisogno di essere ancora sostenuta e nutrita nei valori della democrazia e costituzionale, nei principi fondamentali della Repubblica. Dopo quel 2 giugno del 1946 infatti si costruì l'architettura istituzionale e costituzionale della nostra Repubblica che ancora oggi rigge. Ci sono delle modifiche che si vogliono fare e che si faranno probabilmente nel tempo. Oggi si parla di premierato, di presidenzialismo. Insomma, ovviamente la Repubblica deve evolvere, ma sicuramente non dobbiamo pensare sia una cosa scontata. Lo ripeto, è una Repubblica molto giovane rispetto ad altre Repubbliche nel mondo. Il nostro paese ha una grande storia, ma non repubblicana, quindi dobbiamo saperla coltivare e portare avanti ogni giorno. Questa è la mia considerazione principale. Ovviamente come tutti i sistemi anche la Repubblica ha i suoi difetti, non è esente da critiche e non potrebbe che essere così. Però sicuramente rispetto al sistema monarchico o ad altri sistemi è sicuramente quello migliore. E quindi mi sembra corretto oggi celebrarne il ricordo di quel 2 giugno in cui gli italiani scelsero a maggioranza di diventare Repubblica lanciando anche un sondaggio su questo canale. Potete andare nella sezione della community e votare il sondaggio. Ed è questo. Rimpiangete la monarchia o siete ancora convinti sostenitori della nostra Repubblica? Ovviamente io mi sono già esposto tifando ancora oggi per la Repubblica. E voi dite la vostra, sia nel sondaggio che nei commenti. Buona festa della Repubblica a tutti e ci vediamo domani.